come stai? stai bene? ah oggi io ho inventato si chiama portatelefono ah questo la prima cosa tu c'hai mettere il telefono in giacca ah secondo hai visto? metto il telefono là e lo fa camminare questo si chiama portatelefono a camminare una bella invenzione guarda se vede a volte tu se vede su tutte le regie che c'è ah e non solo le regie che bella invenzione hai visto? metto il video e tu guarda che pensa? hai visto che bella tecnologia ah si chiama camminare o gelaro ah questo si vede a tutte le parti ma niente che dopo si vengono tutti ah ci vediamo bye bye guarda l'altro i prodotti che tengo guarda guarda uno si chiama getto il telefono fuori dalla finestra ah e l'altro si chiama getto il telefono fuori dal balcone ah accattatele subito vai subito allo store ah ciao